In un difficile momento per l'economia del territorio arriva da Pozzuoli una risposta alla crisi, con l'apertura dello store Flygirl. Nonostante le difficoltà, spiegano i responsabili del negozio di abbigliamento Enzo e Laura Pafundi, è necessario scommettere sul terziario. Abbiamo deciso di scommettere sul commercio perché riteniamo che utilizzando un marchio italiano, che è il marchio di Flygirl, con una testimonial italiana, Martina Stella e prodotti di estrema qualità, la crisi possa essere sicuramente superata e combattuta, nonostante sia innegabile. Abbiamo deciso di aprire un negozio a Pozzuoli di questo marchio perché ci sembrava che la richiesta fosse tantissima e l'offerta decisamente inesistente. Un marchio in forte crescita a livello nazionale che ha deciso di impiantare nuove strutture e nuove attività anche nell'area flegrea. Un'opinione ribadita anche dal fondatore di Flygirl, Raffaele Caldarelli. Il prodotto Made in Italy è sicuramente richiesto da tutto il mondo. Se ci dedichiamo un po' tutto a questo prodotto Made in Italy si avrà più successo e si avrà sicuramente un abbattimento alla crisi. Un'apertura all'insegna della moda, con le ragazze a calcare la passerella nella nuova location indossando i capi di abbigliamento del brand che ha come testimonial l'attrice fiorentina Martina Stella. Grazie a tutti! Grazie a tutti!